Dalla seconda lettera di San Polo Apostolo Timoteo Perché anch'essi raggiungono la salvezza che è in Cristo Gesù insieme alla gloria eterna Questa parola è degna di fede Se moriamo con Lui, con Lui anche vivremo Se perseveriamo, con Lui anche regneremo Se Lo rinneghiamo, Lui pure ci rinnegherà Se siamo infedeli, Lui rimane fedele Perché non può rinnegare a se stesso Richiama alla memoria queste cose Scongiurando davanti a Dio che si evitino le vani discussioni Le quali non giovano a nulla Se non alla rovina di chi le ascolta Sforzati di presentarti a Dio come una persona degna Un lavoratore che non deve vergognarsi E che dispensa rettamente la parola della verità Fammi conoscere, Signore, le Tue vie Fammi conoscere, Signore, le Tue vie Insegnami i Tuoi sentieri Guidami nella Tua fedeltà e istruiscimi Perché sei Tu il Dio della mia salvezza Fammi conoscere, Signore, le Tue vie Buono e retto è il Signore Indica ai peccatori la via giusta Guida i poveri secondo giustizia Insegna ai poveri la Sua via Fammi conoscere, Signore, le Tue vie Tutti i sentieri del Signore Sono amore e fedeltà Per chi custodisce la Sua alleanza E i Suoi precetti Il Signore si confida con chi lo teme Gli fa conoscere la Sua alleanza Fammi conoscere, Signore, le Tue vie Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo si avvicinò a Gesù Uno degli iscrivi e gli domandò Qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose Il primo è Ascolta, Israele Il Signore nostro Dio è l'unico Signore Ammerai, Signore, tuo Dio Con tutto il tuo cuore E con tutta la tua anima Con tutta la tua mente E con tutta la tua forza Il secondo è questo Amerai il tuo prossimo come te stesso Non c'è altro comandamento più grande di questi Lo Scriba gli disse Hai detto bene, Maestro E secondo verità Che Egli è unico E non vi è altri all'infuori di Lui Amarlo con tutto il cuore Con tutta l'intelligenza E con tutta la forza E amare il prossimo come se stesso Vale più di tutti gli olocausti E i sacrifici Vedendo che Egli aveva risposto saggiamente Gesù gli disse Non sei lontano dal regno di Dio E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo Come clap Sì Voi Voi Sì Grazie a tutti